è stato operato alla cistifellea l'ho saputo dai media e da un'intervista che gli hanno fatto in clinica dove l'influencer ha raccontato il dolore per la sua malattia ma che ha fatto dopo un po' è uscito dall'ampio silenzio e ha sgorgato crude notizie sulle ingiustizie della società condiviso sempre e ampiamente dai media ma che ha fatto forse esiste una macchina che crea dal nulla gli influencer no lui è stato scelto dal cielo e lui grato risponde ma che ha fatto creato dai media su gestione la massa che ha bisogno di essere illusa dagli influencer per diventare meno massa nel frattempo ha guadagnato un'enormità di denaro dicendo che era per beneficenza e quindi Grazie.